Cristo è il nostro Re, il nostro Signore, il Re di tutti, il Signore dell'universo. Questo è quanto la Chiesa professa in questa domenica, ed è un atto vero e proprio di fede, è un modo per dire la mia esistenza è nelle sue mani. Il mio Re non è la mia salute, il mio Re non è la mia posizione sociale, il mio Re non sono i miei beni, i miei affetti, i miei progetti. E il Re mi dice una cosa molto importante, se sono stato veramente me stesso o no, l'incontro con Lui in fondo mi rivela il volto vero della mia umanità, un uomo in uomo perché solidale, qui non serve essere cristiano o credente, o consacrato o religioso, che si tratta di essere umani. E non possiamo non notare la sorpresa nel racconto del Vangelo di coloro che non comprendono, si meravigliano di cosa abbiano fatto o non fatto a Gesù Cristo, in realtà loro hanno solo amato. E questo è una lotta, un contrabbaccio, quel cristianesimo sdolcinato e acido che spesso impera nelle nostre chiese, di coloro che si sentono cristiani perché sono cristiani, vedono Gesù Cristo negli altri e fanno degli atti buoni. No, basta essere uomini, basta essere umani per essere profondamente cristiani. Buona missione.